Al De Marsi è festa biancoverde. Dopo la vittoria sul Monticelli, i ragazzi di Lucarelli conquistano l'intera posta anche contro il Campobasso, vincendo per 3-1 e lanciando un chiaro segnale al campionato. Per i quartieri alti della classifica ci sarà da fare probabilmente i conti, anche con i biancoverdi, belli a vedersi, ma soprattutto concreti. Tutti aspettavano di massimo, ma nella giornata in cui tanti si sono scomodati per venire a vedere il gioiellino avezzanese, tra cui il direttore sportivo del Pescara Giuseppe Pavone, ci pensano Bisegna con una doppietta di Genova a regalare i tre punti ai biancoverdi. Non bene gli ospiti che sono stati però anche sfortunati, oltre che imprecisi sotto rete. Dopo un minuto Dimash scalda subito le mani a Davino che è attento e respinge. La risposta marsicana arriva al sesto con un tiro sull'esterno di Sassarini dall'interno dell'area di rigore. Le due squadre fanno subito capire di essere intenzionate a conquistare l'intera posta in palio. Ancora Vezzano all'undicesimo con Crass che dopo una buona azione di Dimashimo prende la mira dai 22 metri, chiamando Grillo al salvataggio in angolo. Al quindicesimo si rivedono gli ospiti con Corbo che crossa in area per Andrea Bucchi che trova la respinta di Valerio. Passa un attimo e l'ex Terramano ci riprova trovando questa volta il varco giusto e regalando il vantaggio ai rosso-blu. La gioia dei lupi dura meno di due minuti perché al diciottesimo Bisegna su punizione rimette la gara in parità con una traiettoria che non lascia scampo all'estremo molisano. I ragazzi di Cappellacci non ci stanno e così al ventesimo Censori in area trova la respinta di Davino. Il campo basso ci riprova anche al ventiquattresimo con un colpo di testa di Alessandro che manca di poco il bersaglio grosso, ma un gol praticamente fatto lo sbaglia sul fronte opposto di Massimo che al venticinquesimo a porta sguarnita fallisce la rete del possibile 2-1. La gara non conosce pause con attacchi dall'uno e dall'altro fronte e con un bel gesto dei tifosi molisani che al quarantesimo espongono uno stricione con scritto solidarietà agli alluvionati con gli applausi scroscianti dei tifosi di casa. Passa poi qualche secondo e al quarantunesimo di Genova con un tocco felpato sotto rete fa 2-1. Il tempo si chiude poi al quarantaquattresimo con un'azione pericolosa di Bisegna che fa ancora gridare al gol i tifosi di casa. La ripresa si apre al terzo con una buona opportunità di bontà. Al settimo però gli ospiti restano in 10, Carminucci va a colpire proprio di Massimo lanciato a rete e per l'opriore di Foggia. Ci sono gli estremi per il rosso diretto che viene aspramente però contestato dai molisani che cercano di riportarsi in avanti alla ricerca del pareggio anche se l'inferiorità numerica si fa sentire con i biancoverdi pronti invece a piazzare il tris. Al sedicesimo ci prova il gioiellino di Massimo che alza però troppo la mira. I rosso-blu si rivedono al ventunesimo con Dimash che in aria chiama Davino al miracolo prima del tiro a fil di palo di Censori sugli sviluppi dell'angolo ospite. Ma per i lupi non è giornata perché al ventitresimo Bisegna trova il 3-1 con un tiro deviato che inganna l'incolpevole Grillo. I ragazzi di Cappellacci non si arrendono e al ventiseiesimo su angolo di Dimash e Bucchi a colpire di testa chiamando l'estremo Marsicano ad una super parata. Il finale di gara è un copione scontato con i rosso-blu a cercare di riaprire il match e i padroni di casa a controllare per ripartire in contropiede. Al ventottesimo ancora Dimash però sfortunato visto che la sua conclusione colpisce la parte superiore della traversa della porta vezzanese. È il segnale che per i molisani non c'è davvero più nulla da fare.